Nuovi orrori nella guerra Ucraina-Russia in un attacco russo ad alcune auto in fuga nella regione di Kharkiv. Sono rimasti uccisi anche 10 bambini, in totale le vittime sono 20. Si tratta del secondo convoglio di civili attaccato nel giro di due giorni. A parlarne è stato il governatore locale Olai Sinepo. Mentre dei bambini rimasti uccisi lo ha riferito il capo dei servizi di sicurezza di Kiev, Vasily Maliuk. L'attacco sarebbe avvenuto nel distretto di Kupiansny. Un atto crudele che non può essere giustificato, ha commentato il governatore della zona. Sale intanto la tensione internazionale dopo che Putin ha sfidato il mondo annunciando con enfasi e retorica l'annessione dei territori ucraini occupati. Il responsabile della sicurezza statunitense Jake Sullivan prefigura scenari impietanti e dice che i militari americani in Europa sono pronti ad ogni evenienza. Intanto il consigliere del presidente Zelensky invita Giorgia Meloni a Kiev ed Auspa che auspica che il nuovo governo italiano continui a sostenere l'Ucraina. Altre notizie sul fronte di guerra. Il sindaco della città meridionale di Mikhailov ha portato sui social le foto degli appartamenti agli ultimi piani di un edificio residenziale distrutti dai missili russi lanciati sabato mattina sulla città ucraina. Le abitazioni sono state distrutte, le auto parcheggiate nel cortile sono state danneggiate. Nelle case vicine le finestre sono saltate. Mosse estere dopo le azioni firmate Putin. Dopo la Svezia anche la Danimarca ha convocato l'ambasciatore russo in seguito alla nessione illegale da parte di Mosca di quattro regioni ucraine.